Sinceramente non so se avete già vi chiesto il video sugli iPhone o non l'ho ancora pubblicato Parliamo anche di questi cazzo di Apple Watch che hanno presentato Se c'è da dedicarli davvero un video, assolutamente no Ve lo dedico comunque perché così sono in pace con me stesso Assolutamente sì Tanto sono due modelli molto chill Gli Apple Watch mi fanno sempre... chillare Scusate se non guardo in camera ma sono qui a guardare il sito di Apple Vi volevo segnalare che anche sul sito di Apple è sceso di prezzo l'Apple Watch SE E l'Apple Watch che io consiglio parte da 289€ Che io non vorrei dire ma il primo Apple Watch SE prima che cominciasse tutta l'inflazione Veniva di paggio da 309€ Bene ora possiamo parlare di roba seria Apple Watch Ultra 2 Bene è un po' una merda Infatti vi dico subito il prezzo 909€ Però che vi devo dire, se volete un Apple Watch Ultra Di certo non è questo che vi deve far cambiare idea Se prima non vi serviva, non vi serve neanche adesso Ma prendete questo, non il vecchio Apple Watch Ultra Almeno non si svaluti tanto Questo viene meno E non penso che si svaluti l'Apple Watch Ultra così tanto Quindi costerà meno questo di quello dell'anno scorso Dei geni che lo rivendono per prendersi questo Quindi se volete un Apple Watch Ultra Prendete, cioè non fatevi Pili e pennello no Prendo quello dell'anno scorso Usato lo pago meno Non è vero, prendi questo Puoi ordinarlo già ora E andiamo a scoprire di cosa si tratta Quest'anno abbiamo ancora una nuova Watch Face Per Apple Watch Ultra Si chiama Modular Ultra E con cosa ci delizia con questo Apple Watch? 3000 Nm di luminosità massima Che per quello che fa, ottimo Una batteria molto poderosa 36 ore e 72 in low battery mode È carbon neutral A impatto zero Tutto riciclato, tutto titanio riciclato 95% È praticamente lo stesso Apple Watch di prima Però ha anche le funzioni del Serie 9 Che ora andiamo a illustrare Ah no, l'Apple Watch Ultra C'era il famoso rumor che diceva Ah guarda, arriva anche In colorazione titanio scuro Non è arrivata Mentre Apple Watch Serie 9 Non è successo niente Perché tanto alla prossima C'era la decima generazione E vuoi che non faccio qualcosa di scioccante L'unica grande funzione è il doppio tocco Fai così, tipo così E tra l'altro te lo riconosce Cioè non è che lo riconosce male Tu puoi riconoscere il flusso sanguigno Che tu tu Ma riconosce il sangue Quindi tipo C'è una telefonata Stai Stai facendo qualcosa E non puoi toccare Apple Watch Fai Tu tu Vuoi stoppare la musica? Tu tu Che sembra una cagata Ma come sull'iPhone Pro Arriva la funzione di fare le space foto Le space video Per 3D Per Apple Vision Pro Qui c'è una stessa gesture Che c'è su Apple Vision Pro Ecosistema Banalissimo ma ecosistema Queste sono le cose In cui riconosco Apple Non un iPhone 15 Pro Brutto Questo è l'attenzione al dettaglio di Apple Per quanto non sia poi tutto questo grande Apple Watch Però si vede la cura del dettaglio Non essendo un prodotto Cioè Non c'avevo nulla da fare Hanno detto Vabbè facciamo due cosine Che Aggiungiamo due funzioni E resta presente lo stesso Apple Watch Ma scende a direttore di prezzo Ed è perfetto Cioè ragazzi L'Apple Watch È perfetto Con il WatchOS 10 Resta perfetto L'iPhone Ha sempre Può sempre migliorare Certo anche l'Apple Watch Ma l'iPhone C'è sempre quella cosa in più Che noi appassionati chiediamo L'Apple Watch Per me È perfetto Ha la funzione Che ti mette iPhone Come AirTag Usi Cioè Non è che usi iPhone Come AirTag Quando trovi l'iPhone Te lo trova in maniera Precisa C'hai i WatchOS 10 C'è un sacco Nella Watch Face C'è un sacco Di numerose software Ad impatto zero Ad impatto zero Ha delle colorazioni Molto chill Galassia Mezzanotte Silver Rosso E rosa Resta anche L'acciaio inossidabile Con nero Oro E argento Non si sa perché qui L'acciaio inossidabile Fortunatamente rimasta Perché a me l'Apple Watch Cioè Nessun live Le piace un casino Per quanto Aspetta Cioè Resta anche La versione con MS La versione con Nike Ovviamente E anche qui Abbiamo degli ottimi prezzi Perché 4,59 per il 41 mm 4,89 per la versione Per la versione con 45 mm Costa meno addirittura Dell'Apple Watch Series 7 Uscito nel 2021 Non si sa perché Questa non è Apple ha fatto questa pazzia Di abbassare un sacco I prezzi iPhone 13 Ora viene 7,49 Ottimo prezzo Sono davvero contento iPhone 13 È l'iPhone Da comprare Per tutti Non costa poco Ma è l'iPhone Da comprare Sono abbassate anche Le Airpods Di terza generazione Vengono a 199 euro Non comprate Raspettate Le cascate con USB-C Non comprate Iphone mini usati Perché fra poco C'è l'iPhone SE nuovo Che è come un iPhone mini Ma sull'iPhone Da comprare Ne parleremo presto Ora Apple Con questo evento Mi ha mezzo Deluso Perché Ah tra l'altro C'è il processore S9 Capite quanto è importante No? Più me lo dimentico così Apple Con questo evento Non l'ho capita Perché Come concetto Insieme Hanno fatto un po' Di cose interessanti Per La tecnologia Per Il risparmio Energetico Non della batteria Ma Delle energie Del pianeta La salute del pianeta C'è anche una Bella gag Così Con madre natura Tim Cook Cioè Solite gag di Apple Sempre fatte perfettamente Non è stato un evento perfetto Assolutamente no Cioè iPhone 15 Pro Per me è un Disastro Non ha senso C'è una porta USB C Che per quanto sia una porta USB C È una USB C 2.0 L'iPhone 15 L'iPhone 15 Però comunque È una 3.0 Ci aspettavamo Una Thunderbolt Molte cose Non sono arrivate Certo Però Boh Io non Non lo so Tutto sommato iPhone 15 Lo trovo un ottimo iPhone Per quanto abbia 60 Hz Lo trovo comunque Un ottimo iPhone Che abbassa di prezzo Comunque non costa Non costa poco Ma abbassa di prezzo Hanno Hanno Aggiunto Due nuovi Step Di storage Di cloud 4 tera E 8 tera O 6 tera No mi sembra 8 tera Io per ora Andrò avanti Per qualche altro annetto Spero Con i miei 2 tera Che comunque Sono 9 euro Al mese Ci vediamo In questi giorni Con i miei soliti vlog Molto chill Ieri è uscito Vestlife Ve l'ho già detto Andatemi a vedere Il video Perché è epico Uscirà Un altro episodio Stile Vestlife Fra pochi giorni Uscirà al 18 Il video Sui nuovi aggiornamenti E no Esce un po' di roba Quindi Iscriviti Ciao Ciao